Una squadra, la Lucchese, ancora secco di vittorie, con il presidente che non le ha mandato a dire nonostante il pari in casa del Livorno. Dall'altra parte è Cunarezzo, reduce dal bel successo interno con il tutto cuoio, frutto anche di avvicendamenti nell'undici titolare e con l'obiettivo di trovare continuità di risultati. Lucchese-Arezzo è anche questo, non è solo una sfida tra ex come Galderisi e Simone De Martino che si accomoderà in tribuna. I rossoneri, con i loro tre punti all'attivo dopo cinque giornate, navigano al terzo-ultimo posto. Il patron bacci, nonostante il pari a Livorno, non ha gradito la prova della squadra e la panchina di Galderisi inizia a rumoreggiare. Attenzione però al gruppo di mister Nanu Galderisi, a quei nole e fanucchi cresciuti in terra retina, il primo con la Sansovino e il secondo a Figline, in grado di segnare il gol vittoria dei Valdarnesi contro l'Arezzo di Leonardo Semplici e una doppietta che sconfisse l'Arezzo di Capuano pochi mesi fa. Di contro c'è da dire che Galderisi dovrà fare a meno di Di Masi. Il numero uno delle Pantera ha rimediato un'infrazione al dito mignolo della mano destra, al suo posto il classe 96 Tommaso Nobile. Anche l'Arezzo si prepara alla sfida di Lucca con un 4-2-3-1 che potrebbe essere simile a quello dei rossoneri. Il rientro di Milesi non dovrebbe escludere dall'inizio Muscat in coppia con Sirri al centro della difesa. Nessuna novità sugli esterni e mediana dove De Feudis dovrà dare geometrie e fare filtro con Foglia. Sulla tre quarti ha scontato l'utilizzo di Erpen, mentre Polidori, grazie non solo al gol, manca la bella prova contro il tutto cuoio, potrebbe anche trovare la conferma dall'inizio. Vincere al Porta Elisa significherebbe per l'Arezzo mettere a segno la quarta vittoria in campionato, un successo per restare almeno nelle prime tre posizioni e soprattutto dare continuità, non solo in termini di risultati e punti. La sfida del Porta Elisa potrebbe dare un contributo importante al morale e all'ambiente, non certo agli abbonati o allo zoccolo duro della tifoseria, presenti anche sotto il diluvio, quanto semmai a chi si ricorda del comunale solo in occasione delle partite di cartello.